amici dopo 30 mesi il playboy di youtube è tornato in azione allora grazie non credo che putin abbia riconosciuto come repubblica indipendente la calabria questo non credo proprio sì sì ragazzi finalmente ci siamo ora sto andando in direzione di piazza maggiore lo so che voi mi volete sempre veder rimorchiare grazie grazie siete sempre troppo buoni con me ma ora io mi devo dar da fare ci vediamo dopo ciao tantro 22 mesi cerca la pereda patrizio comunque nel caso speriamo che arrivi dopo il weekend tutto questo casino così almeno ho i miei due giorni liberi patrizia lo scuolo del donbass alla rimorchiata su twitch ormai tutte le cose che dovevo dire le ho dette ragazzi non è è la tua ragazza credo spero di no ma questo è vero è il vabbè qua lo battano a lui nel caso ciao federica federica hai visto no mi fa piacere perché lo desideravate in tanti in il rimorchiare in il non è per niente semplice eppure oggi ce l'ho fatta davanti a voi visto che molti pensano che io pago le ragazze pago le ragazze e pago le ragazze così dieci minuti fa avevate detto e dopo i dieci minuti boom grazie voglio che credono in me in quello che dico perché lo sapete che non vi prendo per il culo io non ho mai pagato nessuna ragazza nei miei video su youtube e avete visto l'approccio che faccio senza telecamera quando io devo fare un video su youtube voi l'avete visto oggi con la telecamera proprio tutto live avete visto l'approccio simpatico mi sono valorizzato cias viola tifo su fiorentino dichiara che starà con poter si bombarderà a casa di vlao è importante anche valorizzarsi ciao andrea amici grazie per aver visto anche questo video si chiama bologna è tutto noi come sempre ci vediamo a sorpresa e bravo patrizione il live non credo che c'erano 8 mila persone a guardare patrizione in live non credo non credo